Con tantissima responsabilità ma anche con tantissimo orgoglio di fare il lavoro che desideravo fare in primo luogo in Sicilia che è la mia terra e poi specialmente nelle funzioni penali che erano quelle che proprio desideravo fare. Io sono molto contenta di iniziare qui a Gela perché penso di poter fare un'esperienza molto arricchente sia dal punto di vista professionale che umano e proprio personale, anche proprio di crescita e niente poi perché la Sicilia è stupenda. Il desiderio di svolgere al massimo delle nostre capacità e possibilità questo lavoro e quindi di rendere il servizio giustizia. Io ho studiato fuori, ho vissuto per 18 anni a Bologna.